Io non so se i piatrani siete un mito di coraggio. Anche io. Sicure? Io sono. Anche qualcuno sincero dice io, che brava, e ci sta. Io non lo ne ho neanche perché non lo ne ho neanche. Perché in questo libro ho disegnato degli animali che non esistono. No, purtroppo esistono. E non sono proprio degli animali amichevoli. E' geniale. Ora, vogliamo vedere chi c'è in questo libro? Sì. E se siete pronti a fare quello che il libro vi chiede, sono delle prove un po' sconsiderate. Iniziamo? Pagina nera, contrario all'altro. Però poi nera. Arriva qualcuno e vi leggo un indizio. esce dopo un acquazzone. Lascia tracce sul balcone. Chi ha il coraggio di toccare... No. Riparate un dito. Un dito. Io. Chi ha il coraggio di toccare... questo molle lumacone... Questo molle lumacone... Chi ha il coraggio di toccare? Io. 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 avevo dubbi, vado avanti, allora silenzio, piatto sospeso e arrivo a qualcun'altro, è verdogno, è vagoso, fa ribrezzo anche a riposo, chi ha il coraggio di baciare? ma chi è chi? questo rospo sai rugoso? chi? allora facciamo un volontario che si immola, dai vieni tu, come ti chiami? Elena, si immola per tutti ok è andata, è andata, dopo lo baciamo tutti, dopo facciamo un altro giro, no vabbè se lo variano un po', pronti? questa è superata, vado avanti due, tre, uno, due, tre, ascolta i rinizi, si nasconde tra gli arredi, spero non piuttosto, quando c'è, non lo prevedi, chi ha il coraggio di sfiorare? io 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 questo letto millepiedi lo faccio passare velocissimo corre ah c'è qualcuno? no piano attenzione anche la dietro pronti? ne faccio ancora due vediamo si questo ve lo voglio fare uno due tre intinello o peggio in bagno non è affatto un buon compagno chi ha il coraggio di fissare aprirebbe gli occhi io 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 dritto il bacio a questo raggio no no io 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 oh 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 vedete con chi? con il cinghiale un po' irritato che ho qua? un volontario vediamo dalle retropie tu qui dietro vieni a fare un razzonaggio è alzato la mano e prima di sapere sapete chi ami? simone alessandro con il cinghiale eccolo bravo alessandro adesso io adesso facciamo l'ultima ultimissima l'ultimissima poi dopo il primo tempo ne andiamo ancora e anche io proprio per l'ultimo cos'è? non c'è uno, due, tre morde e azzanna ascolta e ascolta di paure è una raccolta chi ha il coraggio di guardare io io questo libro un'altra volta io io no ora vi faccio vedere l'unico non non non